C'è un suo parere? Poi da dietro anche col campo pesante non abbiamo potuto sviluppare una manovra fluida facendo anche tanti errori individuali, tecnici e poi nel momento in cui c'era un po' di equilibrio abbiamo anche preso gol e niente abbiamo cercato di reagire, abbiamo avuto un'occasione importante con Geio, non ha stoppato purtroppo su un triangolo una palla in tantissime nari, hanno fatto 2-0, siamo rimasti in 10 e la partita diventa difficile però attaccando bene la profondità ci siamo presentati a tu per tu col portiere a fine del primo tempo, dovevamo rimettere la partita di nuovo in gioco e invece siamo andati a riposo sul 2-0, poi nel secondo tempo diventava difficile, abbiamo cambiato comunque il centrocampo, abbiamo giocato con un esterno alto dietro, cercando di mettere due punti pesanti in avanti e giocare comunque anche noi su palla lunga solo che le mezzali erano veramente stanche e non sono andati quasi mai dentro dovevamo invece giocare sul palla per gli attaccanti con le mezzali dentro, abbiamo creato qualcosina però abbiamo anche dato spazio al Perugia che si è reso pericoloso in molte situazioni poi quando siamo rimasti in 9 è normale che la partita non ha avuto più storia, però è stata buona la reazione che abbiamo avuto anche in 10 nel secondo tempo, abbiamo cercato sempre di giocare, di fare comunque la partita e quindi va bene così Quale cosa in particolare tra i giocatori di Venuti? Noi vi dico la verità ma Venuti non ha affatto un fallo cattivo, se in un campo del genere noi pensiamo che questo sia un fallo di espusione, no fate anche delle smorfi che non mi piacciono intanto se va fuori Venuti deve andare fuori i giocatori di Perugia, questo è matematico perché la reazione viene sempre punita più del fallo stesso c'è stata una reazione scompostissima da parte dei giocatori di Perugia e andava buttato fuori lui, però non voglio parlare dell'arbitro, io parlo della mia squadra che ho già meritato di perdere del Perugia che ho già meritato di vincere, se però andiamo a parlare di squisite sugli episodi io poi divento un pochettino pericoloso perché dobbiamo parlare anche del discorso degli ultimi minuti, dei fuori gioco dati o non dati, sul rigore, quindi sul rigore di Gheio perché quando Gheio ha tirato e preso palo il portiere è andato su Gheio e poteva darci il rigore, quindi sugli episodi non voglio parlare l'arbitro è abitato bene, non abbiamo perso meritatamente, il Perugia ha vinto meritatamente, questo è fuori di ogni dubbio però se va fuori i venuti deve andare fuori anche il giocatore di Perugia perché ha avuto una reazione scomposta stop, indipendentemente se è venuto e ha fatto un fallo da espulsione, il giocatore di Perugia va buttato fuori siamo 10 contro 10 e ci giochiamo la partita, se dobbiamo parlare di episodi, di episodi però non voglio parlare oggi diamo merito al Perugia che ha giocato meglio di noi, che ha avuto il coraggio di affrontarci in una certa maniera la spavalderia ha avuto veramente un grande approccio e quindi merito a loro stop c'è stato uno scambio di battute tra la panchina rossa e la panchina gold, è visto male? sì, noi 9 uomini fa un terzo colo sul rigore, indipendentemente se ce l'avessero col pubblico o meno lei che dice? lei che dice? perfetto, grazie, arrivederci grazie a tutti